musica bella a tutti i folli e bentornati su dark folly channel con un nuovo video sul canale oggi sono qui in compagnia di mio fratello lak come vedete dal culo della sua skin e ci troviamo sul server gome hd ovvero è più in descrizione per portarvi i nuovi episodi della serie mind war lo so lak che siamo fregati ovviamente stiamo pushando con questa fantastica tecnica che ha inventato lak negli scorsi episodi e mentre qui cerchiamo tutte le cose da equivaggiarci vi invito come sempre a lasciare tanti pollicezzi in su per sostenere questa serie e vi invito anche a lasciare tanti commentozzi qua sotto e darci suggerimenti e altro comunque detto ciò possiamo iniziare subito questa partitozze dove lak già ha fatto la prima kill e lak se ne esegui ci sono e che il cat f5 mentre c'erano tutti ehm si erano in due perché la canzoncina run run ok sto qua ha fatto un 360 e mi ha tirato la freccia quanto sei simpatico ma tanto di luck dietro di me ok l'ho hittato con la spada però usiamo nel loro spawn luck scappa 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 ok io ho dato un colpo e è morto cioè è quello con l'armatura ovvero strong or wrong in gear che dovrebbe essere abbastanza low due cuori 360 chi era quello con l'armor io ho la spada di ferro il signor luck dove si trova lei noi che finisiamo soprattutto ecco ragazzi noi siamo il team rosso non abbiamo avuto ma quel tempo di guardarci attorno è già questa partita è iniziata abbastanza aggressiva questo qua che cosa mi insegue questo è nudo cosa mi insegue ok l'ho ammazzato sono stato placato da un altro che si chiama ah luck siamo al nostro spawn allora io sono al nostro spawn ma porco cane no magic no luck un cuore ok mi sono salvato non so come ho fatto a vanvera proprio sono riuscito ad arrivare al nostro spawn e ho due livelli comunque noi siamo il team con più cuore luck tu dove sei ubicato ho quattro livelli mi sto incertando luck dietro di te sta arrivando il mondo e comunque ragazzi mi sono appena accorto che questa è la mappa dello scorso episodio hai trovato luck no luck vincendi lo voglio anch'io luck vincendi ora è tipo letale abbastanza luck c'è qualcuno da testa che ci sta frecciando di un mezzo cuore mezzo fottutissimo cuore ragazzi questi due si spreco un livello shop per comprare la gheppol io me ne compro tre sei vabbè ovviamente la gheppol tenete a tre sprecando tu il livello era un pochino esagerato una gheppol un livello comunque adesso con questi soldini folle dietro folle dietro folle dietro la spada di ferro aiuto ok no l'ho distrutto ho detto sto andando a incertarmi la spada e ho dato sharp nessuno ok uh folle mi sa che è il learo ho due stack di frecce ok sto cercando di frecciare quel povero nudo che folle sottita folle sottita luck ti serve la spada di ferro no ce l'ho perché due 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 distruggeli distruggeli un'altra spada di ferro incientata ok ammazzato io ne ho una spada qua c'è un arco vediamo come ho messo punch è il mio è power hai pochi cuori se vuoi ti dono a gheppol ah no hai caschetto di ferro nice qui sopra ci sono i blu comunque ragazzi sta partita sta fucibendo al momento abbastanza bene io ho dato due spadate ma dobbiamo salire in qualche modo c'è la scala per salire non so se l'hai vista di qua comunque tirare le frecce acqua è qualcosa di ignorantissimo qui è nudo e nudo è morto è morto nice ci stanno tirando frecce incendiare dall'altro lato non so se è uno di questi ultimi ici kill oddio sono tutti nudi i blu ci stanno venendo malissimi i verdi che sono senza passare ok run ok run gheppola gheppola aspetta che mi si è buggata mi si è buggata nelle fence con la meno male che mi ha messato mi sono buttato giù perché sopra c'è gente parecchia brutta e soprattutto sono messo un pochino male come romatura dove sei solo il nostro spawn non ci credo una freccia folly mi ha levato 5 sono morto ma che arco c'ha scusa non lo so ma è quello dei verdi ghialli ah il ghialli ovviamente è il team che non si vede male nella partita oddio quello che i shot gli ho fatto è quello che ci apre sempre va bene vi vediamo se riesco a trovare claim nell'arco mangiamoci questa gheppola tac oddio veloce ma questa è l'achillauro mi sa mi sa che un giallo è l'achillauro c'ho forse l'achillauro in Q4 ok ma mi prendeva proprio distanzissimo tanto adesso lo scopriremo subito se questo qua c'è o no cerchiamo di dare fastidio ai gialli dato che adesso abbiamo l'arco incendiario quello l'abbiamo shottato quello l'abbiamo shottato adesso c'è un altro e forse quello che ha ammazzato a te ed è pericoloso non lo so ah no stai inseguendo l'acca attento non ci morire nice chi aveva? forse delle gheppo l'ho visto oh spada di ferro mi serviva ok io ne ho un'altra se vuoi che è nuova di fabbrica nuova di fabbrica eh solitanto c'è anche un giallo povero blu che c'è ma che cazzo oh cavolo me l'ho dato tutta la vita un blu ma anche no l'acca aspetta non quel blu c'è un altro eh l'ho visto e mi ha tirato una freccia comunque non capisco perché mi vuoi che scrivo in chat shop basta e clicco la freccetta verso l'alto te che niente me la dà la freccetta verso l'altro? l'altro apri la chat clicca la freccetta verso l'alto e ti prende automaticamente il comando che ho scritto l'ultima volta beh se tu questo qua sotto si si è fatta anche a notte la cosa non mi piace assolutamente l'acca e spettone ok allora lì c'è un giallo vi da sui gialli noi quanti cuori abbiamo soltanto 7 cuori no l'acca vuole aiuto vuole aiuto vuole aiuto ma se la dà attento l'acca attento vuoi che non no vabbè l'acca siamo finiti nel loro spawn e mi stanno inseguendo vieni vieni qua se gli dai fastidio tu gli tiro le frecce eh ma dove sono i nostri? ok vai distrutto c'è l'altro che ci stava spanchilando perché abbiamo un assente giustamente vuole cercare un ferro bisogna uccirlo ho visto no gli hai parato la freccia incendiaria l'acca si è messo davanti da dietro da dietro da dietro mazzo ok ho ammazzato l'acca indietreggio in caso io non sono messo benissimo di cuore oh cavolo oh cavolo oh cavolo oh c'è uno dei nostri che il kit è il problema che lo sta spingendo verso di te non devo aiutarti ci sono l'acca adesso io qua puoi venire a prenderti le cose che non c'è nessuno dei nostri e tu vieni a prenderti quelle cose non abbiamo più cuori quindi vieni qua sulla sinistra ci sono tutte le tue cose anche le mele d'oro perché non me le hai raccolte un attimo cerco di difendere la posizione no folle vieni qua subito e nascondi è qua suono non ti hai raccolto niente la terra l'acca oppure perché già ce l'avevi già ce l'ho folle c'è un problema allora io ho un milione di livelli io ne ho tre aspetta io ne ho sette voglio prendermi i creeper dato che ne ho scorsi episodio non sono riuscito ad utilizzarli benissimo qui c'è uno ah il preginto incendio e tira il creeper comunque l'acca allora ci sono solo i blu che hanno un cuore e noi siamo ancora 5 vive di cui uno è qua insieme quindi siamo in tre vabbè l'acca ce la possiamo giocare basta che usiamo una tecnica decente ok è folle c'ho 20 uova di creeper ok aspetta che c'è il nostro che sta andando un pochino a suicidio tu sei folle? qua ha il nostro spawn ok un giallo è lì e lo li distruggo male i creeper ti inchillano vero? sì una volta ragazzi che muore l'obiettivo ti inchillano fuori di qua? aspetta che ho anche i pantulli l'acca sono sul ferro quasi aspetta bella cerca di beccarli no non spammarne più perché se no ci arrivano contro ecco l'acca è pieno di creeper dietro di te e ce ne 4 però se non sbaglio si possono one shotare no 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 dove sei? ero al centro mi sono mangiato una ghieppola sto andando verso il nostro spawn ok l'acca ho visto che tu hai ammazzato un altro solo che c'è uno con l'arco incendiario che mi sta prendendo la dietro sono di dritta ok allora c'è uno al centro un blu ok due blu incendiato ho ammazzato ragazzi l'acca attenta io un creeper di dritta anzi due ah sono un problema ragazzi questi creeper sono un'arma a doppio taglio però se non sbaglio con un colpo anzi con due no allora quello di prima è rettato perchè l'ho one shottato l'acca cerchiamo di stare un'idea eh mio cavolo ho fatto una cagata ho fatto una cagata ho fatto una cagata no ok è morto mi sa morto mi sa ecco no no mezzo cuore chi? dove sei folle? chi ha mezzo cuore eh? sono al centro l'acca piccolo è l'eso e oh piccolo piccolo vabbè è morto c'è il nostro rosso è morto è morto tranquillo se tu è dritto voglio tornare il nostro rosso aspetta che sono full armor aspetta che sono full armor l'acca dimmi se arriva questo mi sto mangiando la ghieppola no ok attacca c'è il creeper tubero di creeper ok no l'acca sono da solo contro tre distruggi dal centro vai da solo contro tre sono sì ma sono nudi va bene capisci io non posso fare nulla l'acca è morto vero no ho tre livelli fuori dietro c'è un ferro è proprio vicino sto attirando le uova questo qua è quello che ho dato all'inizio della partita ragazzi cosa vogliono fare sti fessi quello là deve essere l'uovo super giù creeper dietro oddio luck guardami eh ma c'è il mondo dietro di me di creeper due tre quattro oddio devo mangiarmi le cose le ghieppole devo uscire ad ammazzarli ok vai stanno morendo luck tu dimmi dove sono gli enemy mangia mangia devo comprarla prima sta arrivando uno sta arrivando uno oddio ho dato un colpo al microfono ragazzi non c'è visto non c'è visto si dietro 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 oh ma si scroons oddio allora luck un attimo altra ghieppola appena finisce qua l'effetto no no quali sono tutti il rita vabbè picchia l'ora picchia 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 sto picchiando dopo un altro dietro no non l'ho visto no mi è caduto proprio sopra la testa come non lo so e sono morto vabbè ragazzi cioè siamo arrivati i secondi di luck non so come sia morto perché non l'ho visto però ci ha provato di sicuro ha fatto il suo meglio per vincere questa partita è stata abbastanza emozionante perché è la prima volta che rimango da sole soprattutto non so se compagno da qualche parte quanto chi l'ho fatto però ne ho fatte parecchie e niente vi invito come sempre a lasciare tanti polliciosti in su per sostenere questa serie e ci becchiamo domani con un nuovo video anzi con due ciao 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 ciao